E questo è il saluto del nostro corpo di ballo, capitanato egregiamente da Mainini, Fabrizio Mainini è straordinario e mi dà l'occasione di salutare anche Stefano Porti, il nostro coreografo, il maestro Pintucci e naturalmente tutti gli assistenti formidabili auguri di un anno meraviglioso a tutti voi, ragazze e Fabrizio. Allora signora buonasera, come la sta? Ma che piacere, l'ho vista poco fa parlare dell'abbonamento Rai, sì ma lei è sempre vicina a noi, non mi sono riconosciuta, sì eri molto meno bella di adesso, signora Anna Marchesini, buonasera prima di tutto, ti porto sul palco così ti salutano in tutta la sua bellezza, Anna Marchesini! Grazie! Beh, splendida, posso dire guardi una cosa? Grazie, grazie. Mi emoziona lei, mi emoziona. Prego madame, sceglie il quinto numero e con questo numero noi cominceremo ad aprire i centralini, sbucci, questo meraviglioso numero che farà piccole, piccole! Sei! Sei, molto bene! Allora, nessuno le aveva messe in cotezza posizione. Perché le hanno tutte più grandi delle mie e non... Allora... Sono i capezzoli della... Queste della Marini. Allora cominciamo con i cinque numeri che sono 61416, come ho detto prima apriamo i centralini, potete, guarda come ride Bracardi, benvenuto, possiamo naturalmente darvi il numero di telefono che sapete a memoria 0878 2000 e chi ha i cinque numeri anche in forma scomposta può cominciare a telefonare. Mentre io vorrei, visto che ti ho qua oramai nelle mie grinchie... Approfittiamo! Vorrei farti fare una telefonata. Sì! Senza... Mi mancava, guarda! Mi mancava nell'anno nuovo! Perché l'altro l'ho fatto troppo breve! Sì, nell'anno nuovo! Allora, il tema di questa telefonata... Sì! Tu devi essere un servizio ricette... Sì! E poi per il resto fai tu che sei maestra... Sì, va bene! Dunque, allora, scegli un numero a caso... Roma, scegli un numero di Roma. Io lo compongo e se rispondo te lo passo. Ecco, è libero. Naturalmente non devi... Pronto? Ecco. Pronto? Sì? Buonasera, questo è il servizio ricette. Lei e la signora Vera è stata sorteggiata per un servizio gratuito nel periodo delle vacanze. Le passerò adesso la detta Roma-Est... Roma-Est 259. Buonasera... Sono la detta delle ricette Umbre. Pronto? Sì? Sono la detta delle ricette Umbre. Buonasera, e la signora Vera? Chi è pronto? Pronto, buonasera. Sono la sua Roma-Est. Sono la detta delle ricette Umbre. Buonasera a lei. Buonasera. È il servizio gratuito. Che cosa fa di bello? Io faccio le... Devo comunicarle una bella ricetta. La vuole? Che vuole? La vuole una bella ricetta per le vacanze? Sì, me lo dica. Oh, caruccia. Lei di dov'è? Mi sembra che... È romana? Ah, chiama, chiama cosa Marina. Eh? Chiara? Sì. Pronto? Oddio, il terreno. Pronto? Pronto? Sì. Gli serve una ricetta per le vacanze, un bel cenone? Certo. Ah, benissimo. Eh, allora? Che gli piace di più la bella polenta con le lenticchie, le polpette e le sassice? Gli fa piacere, caruccia? Ma cosa dici? Con le lenticchie gli fanno aria. La sento poco. Mi senti... Pronto? Pronto, signora? Sì. Volevo sapere se gli interessa una ricetta con la polenta. Voleva sapere? Perché serve una ricetta con la polenta. Ma lei ce sente? Come voglio dire, come ho dito. Come diciamo integrità dell'orecchio. Lei ce sente? Eh? Lei ce sente, di solito. Ma io la sento male. La sento malissimo. No, ci sento, ci sento. La vuole una ricetta per le vacanze? Certo. Benissimo. La gradirebbe una polenta con le lenticchie, le polpette e due sassice e un po' di cotiche? Buona. Una ricetta leggera, diciamo così. Buona, buona. Allora, cominciamo dalle polpette? Sì. Le lenticchie gli piacciono? Sì. Gli fanno aria? No. Gli fanno aria o gli piacciono? Mi piacciono, mi piacciono. Gli piacciono tanto, caruccia. Però non mi fanno effetto. Non gli fanno effetto? Meno male. Allora, meglio così, caruccia, eh? Eh? Meglio così, a me mi fanno aria tanta. Sì, fa di cosa? A mezzanotte l'ho maniata con Capodanno, mi sono confusa con le botte. Sì. Tanto ho profettato. Brava. Brava, brava. Oddio. Brava, Marchettini. Bravissima. Grazie. Ma lei stava guardando per caso. Io ai figlietti. Eh? Io ai figlietti, gli dica la Carraca e mi faccia qualche cosa. Sono una figlia impressionante. Io a mezzo a caruccia. Tanto caruccia a questa signora che io potremmo fare. La dobbiamo salutare. Ringraziare per la gentilezza. Io non posso fare nulla, nemmeno mandarle dieci biglietti di consolazione. Sa perché? Sì. Lei è la signora vera? Perché questa è l'ultima notte. Comunque le manderemo un mazzo di fiori a nome di Carramba e tanti auguri per il buon anno. Grazie, grazie. Grazie, ha fatto vincere. Sì, grazie. Signora vera? Sì. Marchettini, mi dica. Ascolti. Sì? Se le lenticchie gli fanno aria, mai gliele cece, sono a mano santa. Puoi vanno al gabinetto, non capisce come gli dico. Sì, ma che sì, ne sei un faticona. Tanto caruccia. Arrivederci. Ciao. Formidabile Anna Marchesini, protagonista in questi giorni e per tutto il mese di gennaio al Teatro Olimpico di Roma con una patatina nello zucchero. Perfetto. Certamente diamo l'appuntamento e soprattutto è One Woman Show, cioè c'è lei, ma io l'andrò a vedere prestissimo. Non ci dice quando. Però è veramente straordinaria e unica. Lo dico e sono sicura di non dire una cosa esagerata. Anna Marchesini, grandissima. Grazie. Grazie Anna, buon anno. Grazie. Grazie. E là, se ne va con Matteo. Ciao. Ciao. Ti aspetto, eh.